Wait a minute, who are you? Christian Plus, Christian Plus, oppure puoi chiamarmi come cazzo vuoi Ok ragazzi bentornati a questo video se volete visitare na 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 e Gross preferito Vedete che sanno, rivedano alcune parti del mio video, mi sono accorto che è veramente un intro di merda Quindi oggi, per iniziare questo reaction di Paki, che tra 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 l'altro credevo che questo pezzo fosse un album Cioè, questo pezzo fosse un album, già qua capisce che il mio italiano è probabilmente in discesa proprio In discesa, neanche un verbo ozzeccato quello che ho detto Quindi volevo fare un freestone per regalare qualcosa di evolutivo ai miei follower sicuramente chi guarda Non metterà il figlio di puttana, scherzo Quindi Ehi Quaccione la reazione di Paki Quaccione la rapida con sacchi Ehi Non ho la tipo ma ho la Questo tipo non tipo o la Tu non topo figo di 5 set Non scrivi il nome su da Nacca Scherzo, scherzo, come si genga Cos'è brava, è io tente Non so deve che cazzo sto dicendo Ma c'è da Polo Station Uuu Millà Ho preso lago faccia lago, fanno corsi faccia lago, tipo vengo fuori Faccio questa patta cantata, perché sono troppo tipo patata Questa vuole tipo le mie patta, no Ho però detto che vuole nella mia patata Già da questa possiamo cominciare Metti like, commenta, fai quel cazzo che ti pare Fai qualcosa nella tua vita E renditi utile Eeeh, Paki Blau, bla, bla What the fuck Blau, blau Mi fa stra ridere sta cosa Blau, blau, blau Blau, blau Blau, blau Blau, blau Blau, blau Blau Ok, un oral di intro sicuramente E poi che cazzo vuole dire, blau Blau Sicuramente questa è la parte di intro What the fuck La reazione del carabiniero della provincia mentre guardano sto video È così What the fuck Chiedo scusa se non uso internet Un vero che tu poi non sta su internet Dentro a Blau Ah, Blau 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 Però è bella veramente Non faccio le storie Faccio della storia in strada Mica su Instagram Chiedo scusa se non uso internet Un vero ghetto Non usa internet Veramente tanta roba Non so se ha detto così Ma io sicuramente ho detto un'altra cosa Il beat è pazzesco veramente Cioè a parte che quando Capisco quello che sta dicendo Ha quella Che comunque rende tutto più bello vecchio Sapete quando tipo dormite vecchio Soprattutto per i neri Perché i bianchi non hanno mai le zanzare in casa Soprattutto per i neri Soprattutto per i neri E quando tipo dormite Soprattutto per i neri Anche i bianchi Dai per noi sei mazzista Soprattutto per i neri Il suono di quella zanzara Cioè La zanzara magari È un chilometro da te Ma te lo senti Mmmmm Cioè Che ti piace Mmmmm Lì la sua voce Mmmmm Figlio di puttana non finzione La nuove che c'è in mano Non funziona Non funziona Non funziona A un certo punto Ha parlato normalmente Ve lo giuro Non so c'è ritornare Ma ritornare è pazzesco C'è che muochiato come ome Dilla al tuo locale al tuo promoter C'è dei cagni del software Ho secato il microfono Quindi non so che il microfono mi sia collegato Sicuramente mi sia collegato quello del computer Quindi sentirete un po' di merda Quindi Eh mi si è collegato quello del computer Quindi Con il suo fine video Bella la canzone E Ci sta A casa Il beat pazzesco E Sembra merda la fine C'è un po' di merda E E